amici del vaso di pandora benvenuti ben ritrovati venerdì abbiamo l'appuntamento con l'economista armando sovini ciao armando ciao carlo un saluto a tutti coloro che ci autore scrittore e autore del canale telegram chaos mega noi armando abbiamo soluzionato alcune tematiche di questa settimana che diciamo hanno un loro senso una loro valenza profonda io partirei partirei sulla quello che è avvenuto al recentissimo forum ambrosetti a cernobbio dove viene ogni anno si riunisce il come si dice il gota della finanza e dell'industria no italiane e dove il sentimento diciamo prevalente di ottimismo è stato rotto dal forum ambrosetti dallo spettro addirittura di donald trump alla casa bianca e qui merita un approfondimento perché sì la tematica è molto molto interessante sì diciamo che anche a cernobbio lo spettro di donald trump alla casa bianca è qualcosa che fare a brividire soprattutto ricordo che non tutta l'economia ma quelle quelle realtà quelle aziende quelle multinazionali di stampo globalista che hanno fatto in tutti questi decenni miliardi di fatturati di profitto proprio delocalizzando la produzione ricordo che donald trump col suo programma america first in cui mette l'interesse americano e soprattutto l'interesse delle aziende che hanno perso con la globalizzazione perché adesso noi abbiamo visto le famose città da 15 minuti dette anche smart city poi smart non sono e anche tutta questa questo tentativo ecco di controllare la società mettendo le persone a vivere in loculi di 20 metri quadri all'interno di grandi palazzoni col drone che porta la pizza eccetera e tutto questo comporta dei problemi a quella vecchia industria quel vecchio settore industriale legato al petrolio legato alle automobili certo che se nessuno usa più la macchina nelle città dette intelligenti e la domanda di automobili cala e poi tutto l'indotto che c'è intorno all'automobile pensiamo ai carburanti pensiamo alle stazioni di servizio pensiamo ai pezzi di ricambio e c'è tutto a cascata quindi ci sono degli interessi che sono stati danneggiati dal globalismo in modo particolare poi anche l'auto elettrica anche quelle cinesi che hanno invaso il mercato dell'automobile hanno creato problemi anche a l'industria di vecchio stampo quindi possiamo dire che donald trump rappresenti oggi quel settore industriale che andava forte negli anni 80 anni 90 e che ora ha subito ingenti perdite proprio a fronte di un'altra ala di multinazionali che invece converge verso questa globalizzazione quindi questo cambio di paradigma quindi ecco che questi imprenditori che credo prevalentemente siano in sintonia con la globalizzazione e davanti a un ritorno di Trump alla Casa Bianca e quindi alla sua politica di mettere l'interesse americano e l'interesse dei produttori americani al primo posto ecco che crea un problema non indifferente perché ricordiamo che i globalisti fanno profitti a detrimento delle nazioni ricordo che qualche nella puntata scorsa parlavo di Emma Bonino che si lamentava del fatto che qui non funziona più nulla cioè gli enti internazionali globalisti e che la presenza di Trump alla Casa Bianca avrebbe proprio comportato la caduta del globalismo e quindi queste aziende che si arruiscono a Cernobbio esprimono proprio questo questa attitudine questo loro profitto che deriva questo loro atteggiamento globalista e quindi i profitti che derivano dal globalismo. Senti Armando ma siamo arrivati all'assurdo che questi rappresentanti dell'alta finanza e diciamo della grande industria preferiscono addirittura una guerra piuttosto al protezionismo economico ai dazi? È possibile e tieni conto che abbiamo detto anche l'altra volta nell'altra puntata il nuovo ordine mondiale è morto ha detto Tucker Carlson ma non è solo lui anche oramai abbiamo visto che Harari è stato costretto ad ammettere che una vittoria della Russia avrebbe portato alla caduta di questo ordine ordine che è sostenuto da molti interessi economici finanziari e anche filosofici e metafisici quindi è chiaro che si gioca il tutto per tutto abbiamo visto che ci siamo spostati dalla crisi pandemica alla crisi ucraina poi dalla crisi ucraina la crisi di Gaza e c'è sempre questo questa questa continuità di crisi perché la crisi comporta delle azioni che generalmente sarebbero eccezionali ma che diventano la norma quindi c'è questa rivoluzione permanente in cui le istituzioni diventano un po' il grimaldello per distruggere lo stato di diritto e hanno bisogno di crisi permanenti proprio come ci insegnava Trotsky nel suo libro la rivoluzione permanente quindi cambiano gli attori cambiano i teatri ma i copioni restano più o meno gli stessi. Eh sì copioni rimangono sostanzialmente gli stessi tra l'altro nel corso dell'intervista torneremo dopo a parlare anche di Trump perché è caccia le novembre si sta avvicinando molto velocemente e la caccia a diciamo a trovare i voti in varie categorie quindi parleremo anche degli ebrei degli omosessuali ci arriveremo fra poco e draghi mario draghi è stato premiato a new york io direi stato nuovamente premiato a new york perché era stato premiato anche a settembre se non sbaglio del 2022 proprio in prossimità delle elezioni italiane e ha dichiarato dunque draghi ha ricevuto il premio dell'american academy in berlin a new york appunto dove lì ha esternato ha detto una serie di cose sull'europa una di queste è che il futuro dell'europa è costruito sulla sua unità poi parleremo anche del perché ma è facile insomma dirlo spiegarlo perché draghi riceve così spesso premi in america no è facilmente intuibile diciamo che lui è la punta di diamante di goldman sachs insieme a altri politici italiani come prodi che sono stati posti alle istituzioni italiane proprio per rendere possibile la svendita dei grandi asset della nostra nazione e tieni conto che draghi adesso sembra essere un po' un cane sciolto nel senso che non ha più il supporto che aveva prima sembrerebbe che sia stato abbandonato da le elite e mi ha fatto un po' sorridere l'endorsement della moglie serenella che ha fatto qualche giorno fa in cui diceva tutti i politici lo temono ecco un endorsement di questo genere fa un po' pensare fa anche un pochino sorridere a mio avviso e non c'è più un bergoglio che sostiene un draghi non c'è più un elite internazionale che sembra sostenere draghi ricordo qualche giorno fa reggevo che anche lo stesso speranza è stato costretto ad ammettere davanti alle domande dei giudici che lui già conosceva gli effetti avverti del vaccino gli effetti avversi quindi la verità esce fuori queste cose non sono uscite fuori due tre anni fa ora i giudici cominciano a indagare a fare domande più interessanti quindi questo riflette credo anche il cambio degli equilibri geopolitici la russia sappiamo che ha vinto l'ordine nuovo ordine mondiale è morto questo lo dicevamo già tempo fa noi nell'informazione libera oggi sono costretti a dirlo anche i media mainstream quindi ecco draghi adesso leggevo anche che forse il governo meloni potrebbe supportare la candidatura di draghi come infatti lì ecco bravo perché lì volevo arrivare certo prego si pensa già a un post ursula von der Leyen che ormai è rimasta bruciata con il famoso affaire pfizer con cui no aveva negoziato tramite sms i destini delle nazioni anche la salute dei popoli e quindi draghi potrebbe essere un possibile candidato che potrebbe anche avere il sostegno del governo meloni ma ancora non è ufficiale e credo che tutti questi endorsement siano proprio utili per rilanciare la figura di draghi e quindi poterlo così mettere a capo di un'unione europea che oramai è credo allo sbando ricordo che l'anno scorso parlammo proprio della necessità dell'unione fiscale dell'unione europea appena il crack dell'euro ricordo che già nel 2011 o 2012 non ricordo con esattezza il top economist di Chicago Cochrane diceva che o l'Europa arrivava all'unità fiscale oppure sarebbe arrivato al crack dell'euro e noi infatti sentiamo parlare da un po' di tempo di unità fiscale oramai che la Germania sta soffrendo questa grande crisi economica ricordo che la Germania era la nazione che si era sempre opposta all'unità fiscale per non accollarsi il debito dell'Italia e ora i nodi sono arrivati al pettine quindi ecco o non è più possibile una cozzaglia di stati senza moneta con una moneta unica che neanche è la loro perché noi abbiamo tanti stati senza moneta e una moneta senza Stato e questo non è più sostenibile abbiamo visto anche i rischi di insolvenza di Bundesbank quindi questo è uno delle conseguenze perché l'unione fiscale va a compensare quelle che sono appunto le idiosincrasie economiche noi sappiamo che esempio Germania e Italia hanno delle economie opposte e quindi un'unione monetaria espansiva può accelerare l'inflazione in Germania mentre allo stesso tempo potrebbe rilanciare l'economia italiana quindi sono delle idiosincrasie quindi anche delle asimmetrie economiche tra i vari paesi e queste politiche monetarie non vanno sempre bene per tutti quindi un'unità fiscale avrebbe compensato questi problemi ma al momento credo che sia un pochino difficile arrivare all'unità fiscale quindi fare proprio gli Stati Uniti d'Europa un po' come gli Stati Uniti d'America e credo che forse l'euro stia arrivando agli sgoccioli Senti ma la vedi possibile quindi un insediamento di draghi al posto della von der Leyen? La von der Leyen oramai credo che si sia bruciata anche con la famosa fair Pfizer tutto è possibile in questo momento io ho visto che in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, dal 2020 ad oggi le cose più impensabili diventano possibili essendo l'Unione Europea, non l'Europa perché l'Europa è tutt'altra cosa è l'Europa dei popoli l'Unione Europea oramai in una condizione di crisi perché ricordiamo che l'Unione Europea ha perso la guerra contro la Russia e le sanzioni che ha lanciato contro la Russia sono state un boomerang che hanno distrutto le stesse economie europee quindi in questo momento l'Europa è la grande perdente quindi si cerca di fare il tutto per tutto quindi alla fine Draghi potrebbe essere un buon candidato al crepuscolo dell'Unione Europea Infatti volevo una domanda conclusiva su questo tema cosa potrebbe o cosa potrà eventualmente fare Draghi dovesse insediarsi, dovesse succedere alla von der Leyen? Io credo che lui è sempre stato un europeista integralista sì, perché lui è l'uomo di Goldman Sachs e sappiamo che l'Unione Europea è una creatura delle elite finanziarie degli Stati Uniti quindi il suo obiettivo sarà quello di mantenere l'Unione Europea e quindi l'euro in vita il più possibile l'abbiamo già visto quando era a capo della BCE il famoso whatever it takes quindi si farà tutto il possibile per mantenere in vita l'euro e adesso credo che sarà chiamato a mantenere in vita non solo l'euro ma anche le stesse istituzioni europee quindi anche l'Unione Europea non so se ce la farà Allora adesso ritorniamo dall'altra parte dell'oceano atlantico dicevo prima, ritorneremo a parlare di Trump in questo caso partiamo con Melania Trump quindi la moglie di Donald che ospiterà nella loro residenza in Florida, Mar-a-Lago una raccolta fondi per i repubblicani i Log Cabin Republicans praticamente un'organizzazione LGBT sono gli omosessuali possiamo dire di destra Sì, è un'associazione che è affiliata ai repubblicani quindi ecco, Melania Trump non fa nulla da sola quello che fa è sempre legato alla campagna elettorale del marito è interessante perché in questo momento Donald Trump sta cercando di coagulare il maggior interesse possibile anche i voti degli americani non si rivolge solamente ai repubblicani ma credo si stia rivolgendo anche ai democratici indecisi e a tutti quei democratici che sono rimasti insoddisfatti della politica dell'amministrazione Biden visto che Biden ultimamente ha perso parecchi colpi e poi ha mostrato parecchia debolezza anche nel caso di Israele qualche giorno fa era la notizia che probabilmente gli Stati Uniti non avrebbero supportato Israele in caso l'Iran avesse attaccato ricordo che l'Iran gode del supporto della Cina, della Russia e forse anche della Corea del Nord i quali hanno tutti dei missili personici missili che gli Stati Uniti non sono in grado di neutralizzare quindi è possibile che questo passo indietro di Biden sia per ragioni militari anche per evitare un escalation ma anche perché Biden, ricordiamo che da molto tempo ha perso molto peso nel congresso proprio a causa della crisi ucraina quindi una nuova crisi, quella di Gaza che poi segue quella ucraina potrebbe portare proprio la capitolazione non solo di Biden ma anche dei democratici Sì, resta secondo me un mistero se vuoi dare una tua interpretazione in questi giorni sta circolando nel mainstream che Biden è in vantaggio addirittura di 4 punti dicevano è aumentato il vantaggio che fino a qualche settimana fa un paio di mesi fa era di un punto adesso è aumentato a 4 arrivando a 4 punti su Trump come te la spieghi? Va bene, siamo nell'ambito dei sondaggi quindi dei sondaggi si può dire tutto il contrario di tutto volendo, tanto sono voti solo teorici sono voti che non esistono Secondo me sono numeri che anche non esistono e che servono a creare quell'età d'esprit per cui poi gli americani possano votare Biden in realtà se Biden fosse così amato dagli americani i democratici non avrebbero lanciato la candidatura di Robert Kennedy che ricordo è stata una cerimo nemico di Pfizer e dei vaccini ma allo stesso tempo è un acceso ecologista e supporta molto Israele soprattutto poi la parte ultra ortodossa quindi anche qui poi c'è anche il fatto dell'aborto perché sappiamo che Kennedy è un grande sostenitore dell'aborto e questo poi ha fatto sì che anche Trump si dichiarasse favorevole alla fecondazione assistita o anche all'aborto in varie circostanze lui che era molto pro-life negli anni scorsi ora sta mostrando un aspetto molto più lassista molto più cedevole diceva addirittura decidano gli stati sull'aborto quindi ha lasciato la porta aperta la stessa porta che ricordo lasciò sulle vaccinazioni quando non dice non voglio imporre il vaccino fate Vobis ricordiamo che però è il suo ordine esecutivo che poi ha aperto l'autostrada a Fauci per fare i vaccini nel più breve tempo possibile quindi alla fine stiamo guardando che cosa? stiamo vedendo due candidati che stanno cercando di guadagnare il maggiore numero di voti possibile e non stupisce che Trump stia un pochino giocando su queste tematiche infatti molti conservatori si aspettavano una linea più marcata più rigida su certe tematiche su certi principi non negoziabili ma invece sembra Trump mostra sempre quella sua ambiguità questo perché ricordiamo che anche nel campo degli ebrei nel sostegno agli ebrei ultimamente Trump è tornato a insultare gli ebrei che sostengono Biden New York Times per esempio titola Trump insulta di nuovo gli ebrei che sostengono Biden parlando ad Atlanta mercoledì Trump ha detto che qualsiasi ebreo che vota per Biden dovrebbe farsi esaminare la testa la stessa cosa su AP News Trump attacca gli elettori ebrei che sostengono Biden e questo perché lui ha anche detto una cosa importante Biden ha abbandonato completamente Israele quindi notiamo come Trump in teoria stia anche qui giocando a queste carte ricordo che Trump è stato chiamato tempo fa il nuovo Ciro perché aveva spostato ricordiamo la capitale a Gerusalemme e poi era per la ricostruzione del Terzo Tempio quindi fu acclamato soprattutto dagli ultraortodossi come il nuovo Ciro fu fatta addirittura una moneta con Ciro e Trump da una parte quindi questa della crisi in Israele credo che sia una carta che si giocheranno molto sia Donald Trump ma anche addirittura Kennedy parlavamo prima di quell'articolo La paura degli ebrei e il dio del terrore ebraico su UNZ c'è stata proprio questa interessante notizia per cui Robert Kennedy si sia appunto abbia sottolineato la sua amicizia con il rabbino Schmolle il quale è anche uno dei principali consiglieri di Kennedy e la cosa che ha lasciato per quanto attoniti è che Kennedy ha proprio detto che lo zio JFK fu ucciso da un terrorista interno palestinese a causa del suo sostegno a Israele dice fu ucciso perché voleva condividere il destino del popolo ebraico ora a noi non risulta che un palestinese abbia ucciso Kennedy perché supportava gli ebrei quello che sappiamo è che JFK aveva cercato di bypassare la Fed e quindi il potere finanziario della Federal Reserve perché voleva appunto lanciare c'era il famoso decreto il famoso ordine che prevedeva che il tesoro potesse appunto emettere dei certificati d'argento e fu questo secondo molti analisti e storici accreditati la causa del suo assassino quindi ecco ci lascia un pochino attoniti questo giudizio del nipote di Kennedy sulla morte dello zio senti Armando per ho un'ultima domanda proprio per in chiusura della nostra del nostro appuntamento si è eletto i giorni scorsi da varie parti di una possibile mossa in futuro di Trump di proporre la vicepresidenza in caso di vittoria a proprio a Robert Kennedy Jr come la valuti la cosa? sono così gossip? sono cose possibili? guarda e non so su questa notizia quanto sia attendibile questa potrebbe sparigliare completamente le carte no? ma questo qualora la notizia fosse valorata ci indica una cosa molto importante che non c'è più nessuna differenza tra destra e sinistra come in Italia ma anche negli Stati Uniti tra repubblicani e democratici ricordiamo che il deep state abbracciava tanto democratici quanto i Bush dei rinzecani quindi era molto trasversale quindi non non mi stupisce anche un'alleanza trasversale che potrebbe esserci tra questi nuovi politici che fanno l'interesse diciamo delle vecchie elite industriali delle vecchie elite finanziarie prima della globalizzazione che possano così rientrare nello schema di un nuovo ordine moltipolare ricordo come già ho scritto anche nel mio libro le radici del male da Maltos a Bergoglio che alla fine non ci sono battitori liberi c'era un articolo di Novorossia del 4 gennaio di quest'anno che proprio parlava di Donald Trump diceva che Donald Trump non è un battitore libero e che fa l'interesse della famiglia Rothschild e diceva guardate che ci sono poche banche centrali libere la prossima chi sarà essere attaccato l'Iran e questo era gennaio 2024 ora stiamo vedendo che la crisi israeliana sta sempre di più si sta allargando e sta coinvolgendo l'Iran che poi è supportata appunto dalla Russia dalla Cina eccetera quindi in realtà non esistono battitori liberi io mi trovo d'accordo con questa analisi anche perché alla fine ci sono sempre le solite lobby dietro adesso c'è la lobby sempre dei Rothschild che sta combattendo contro Rockefeller e Soros e sembra che Trump si sia proprio schierato da questa parte da parte dei Rothschild quindi alla fine noi abbiamo dei partiti politici che sempre più hanno una certa sintonia gente che si incontra in ambienti metapolitici quindi alla fine ci salveranno i Bricks ci salverà Donald Trump con il suo America First non sappiamo in realtà è solamente un cambio di paradigma che ridistribuisce le ricchezze da un'elite all'altra e come dicevo anche nel libro alla fine ci troviamo con gnostici estremisti quelli dell'ordine mondiale contro gnostici moderati perché la loro visione del mondo è sempre la stessa ma la domanda che mi sono fatto spesso e che spesso ho rivolto anche ai miei intervistatori è questa quanto durerà la moderazione? Ecco e questa è la domanda e in questi tempi lo stiamo vedendo quanto quanta moderazione c'è o quanta moderazione non c'è assolutamente siamo nel momento degli estremismi veramente tu hai ricordato il tuo libro è uscito da poco io ricordo il tuo canale Telegram Chaos Mega c'è riportato il link in descrizione per accedere al canale Telegram di Armando Savini noi Armando siamo in chiusura ci salutiamo ti ringrazio del sempre prezioso contributo e ci diamo appuntamento alla settimana prossima alla prossima un saluto a tutti grazie grazie a tutti voi amici ascoltatori un saluto a tutti ah aspetta